Quanto la infastidiscono in questa giornata le notizie di cui parlava anche l'ex sindaco Sindoni? Si parla che Capodorlando è sull'ordo del distesso finanziario. Allora, quella non è una notizia veritiera e vi spiego il motivo. Perché il percorso finanziario dell'Atari va al di là di quella che è la gestione del comune. Cioè l'Atari è una tassa da cui i cittadini pagano il contributo e il contributo va all'azienda. In ogni caso non coinvolge il comune. È vero che la ditta ha un credito che io non ho ancora quantificato e quindi non posso dire che sia 3 milioni e 200 mila euro come loro dicono. So sicuramente che ci sono delle premialità che loro dovevano fare e che non sono state fatte e che quindi devono essere detratte. Però in ogni caso non va a incidere sul bilancio del comune di Capodorlando. Grazie. 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 Grazie.